Francesca Leone è una degli artisti selezionati da intellettuali, dal famoso gruppo che ha destato molte critiche scelte da Vittorio Sgarbi per selezionare gli artisti italiani da portare in Laguna. Lei è stata selezionata da un nome di primo piano della musica italiana, Ennio Morricone. Cosa porta a Venezia e che importanza ha per lei arrivare alla Biennale? A Venezia porterò questo dittico molto grande in cui vengono raffigurate due volti. Bagnati dall'acqua. Arrivare alla Biennale è un traguardo importantissimo per un artista. Sono grata a Ennio Morricone che mi ha voluta in questa impresa. E' una meta fondamentale, credo che ancora oggi la Biennale sia una mostra a livello internazionale importantissima. Affidare a intellettuali o comunque persone che di vita non svolgono la mansione e il ruolo di curatori, critici, ma anche solo galleristi. L'impegno e anche la responsabilità di dover selezionare e scegliere chi portare a Venezia, secondo lei è una chiave di rottura per dare in qualche modo un segno di novità a una Biennale che fondamentalmente forse aveva anche bisogno di svecchiarsi. Oppure le critiche che sono state mosse a Vittorio Sgarbi hanno una loro ragione di esistere? Allora, io credo che sia stata una cosa molto coraggiosa quella che ha fatto Sgarbi e ritengo che le arti in generale, se si confrontano, è una cosa importante. Quindi, se parliamo di intellettuali, di uomini comunque di cultura, di uomini che hanno visto il mondo, di uomini con una certa sensibilità, è importante che anche loro possano dire la loro, come del resto, noi quando andiamo a vedere un film piuttosto che leggiamo un libro. Cioè, per me che l'arte non sia solo per pochi ed elettaria è una cosa importante. Grazie. 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 Grazie.